Sì, signora Cesar, le bambine stanno per andare a letto. Più o meno. Sì, tutto bene. Si goda il film. Avanti, a letto, piccoli mostriciattoli. Avete combinato abbastanza guai per oggi. Non siamo stati noi, sono stati i sapoti. A letto, piccoli sapoti. Dovete dormire se volete essere in forma per domani. Non è giusto, noi non vogliamo andare a letto. Vogliamo restare alzate come te. Sì, vogliamo guardare il film e raccontarci un sacco di segreti. Sembrerete degli zombie domani a Luna Park se andrete a letto tardi e non dormirete. Fagli vedere, Marinette. Allora, che preferite? Un noioso pigiama party stasera con le ragazze grandi o il divertentissimo Luna Park domani? Il Luna Park! Come immaginavo. Allora, buonanotte, sapoti. Aspetta, possiamo tenerla, per favore? D'accordo, ma dormite adesso. Sei davvero molto brava con le tue sorelline. Ma chi sono i sapi, sapo... I sapoti? Sono dei mostriciattoli di una fiaba creola che fanno sempre scherzi e marachelle. Ora che siamo sole, finalmente posso dirtelo. A quanto pare Ladybug esiste dall'epoca dei faraoni, ma è impossibile che quella che conosciamo abbia 5.000 anni. Perciò ho scaricato questa app che ha analizzato delle registrazioni che avevo di Ladybug. Basandosi sulla frequenza della sua voce, è venuto fuori che è una ragazza della nostra età. Alia, il succo d'arancia. Non siamo state noi, sono stati i saboti. Che cosa stavamo dicendo? Stavamo per guardare un film. Ah, già! Ladybug è una ragazza del liceo. Quindi, per scoprire chi è, dobbiamo trovare una ragazza della nostra età che è sempre in ritardo. Ci sarà una buona ragione per cui tiene segreta la sua identità. D'accordo, questo è troppo. Provate a uscire dal letto un'altra volta e nessuno andrà a Luna Park domani. Non siamo state noi! Questo era l'ultimo avvertimento e non scherzo! Che cosa dicevi della sua identità segreta? Ladybug deve proteggere gli amici e la famiglia. I cattivi potrebbero usarli per arrivare a lei. Non siamo stati noi, sono... No, Ierià, non lo facciamo più! Ah, sì? Beh, è troppo tardi. Andremo a Luna Park quando sarete buone. Un altro giorno. Un altro giorno